Così voglio il vostro cuore. 23 marzo 1978. Figli di Letti, eccomi qui a prepararvi a celebrare con me la Pasqua del Signore. Vi dico intanto come dissi agli Apostoli. Ho desiderato ardentemente questo giorno e questo momento. Sapeste con che amore io vengo a prendere dimora nei cuori dei miei figli. Voglio da voi qualche cosa che mi potete dare. Quando gli Apostoli mi chiesero. Maestro, dove vuoi celebrare la Pasqua? Io risposi indicando un luogo tranquillo in una stanza addobbata a festa, ornata e abbellita con tappeti e fiori. Figli, così voglio il vostro cuore. Non dovete ricevermi mai per abitudine, con indifferenza e freddezza. Ma la comunione pasquale deve portare una nota di festa. Dovete gioire con me, come la sposa gioisce quando va a nozze. Non sono forse veri sponsali mistici dell'anima vostra col Figlio di Dio, quelli che si consumano nella Santa Comunione? Io vi attendo sempre come se fosse un giorno di nozze. Abbellite il vostro cuore, dunque, dopo aver distrutto, per mezzo del dolore, del proponimento e della confessione, tutto ciò che mi dispiace. Abbellitelo con l'offerta delle vostre sofferenze e delle vostre virtù. Che vale che io vi desideri, se i vostri cuori rimangono insensibili al mio amore, alle mie grazie, alle mie esigenze e al miei desideri? La comunione è un atto di valore infinito che richiama l'attenzione del Padre, che richiama lo sguardo e persino la santa invidia degli angeli, che non hanno mai potuto ricevermi nella comunione. La comunione richiama il desiderio di moltissime anime che, avendo conosciuto la fede, sono però nell'impossibilità di ricevermi. Allargate perciò il vostro cuore e, mentre mi esprimete la vostra riconoscenza per il dono che io desidero farvi e che molte volte già avete ricevuto, sentitene tutta la grandezza ed il valore. Figli, prima di sedere a tavola coi dodici, io vogli compiere quel gesto che esprime purificazione e umiltà. Lavare i piedi dei miei commensali. Vi insegni questo atto che non potete accostarvi alla sacra mensa con presunzione. Le vostre virtù, per quanto sia grande la vostra buona volontà, sono sempre così poco robuste, che basta alle volte una piccola contrarietà a distruggerle. Ciò vi deve rendere convinti che non potete che umiliarvi, chiedendo, attraverso la vostra comunicazione con Dio, di essere purificati e rinvigoriti. Con questa disposizione, e raccomandandovi alla madre mia, perché compia presso di voi quell'azione materna così importante in un momento tanto solenne. Accostatevi all'altare. La vostra comunione pasquale deve dare gioia al mio cuore e deve farvi rivivere le parole della consacrazione. Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue. Per immedesimarmi con voi. Il mio corpo e il mio sangue diventeranno vostro nutrimento. Vostra santità. Vostro rendimento di grazie e vostra salvezza. Dopo questa comunione, molte altre ne seguiranno. Ma per voi sarà sempre una comunione pasquale, che annuncerà la risurrezione vostra e quella di tutti coloro che fanno parte della vostra vita. Io vi darò la pace del cuore in questo incontro festoso di anime, anche se potrà essere preludio del doloroso incontro con la croce, col dolore che accompagna la vita. Voi dovete soltanto promettermi di disporre il vostro cuore a riceverla, donando, a vostra volta, la pace a tutti coloro che come voi sono figli di Dio, figli dell'unico padre. Dare la pace comporta molte volte il rinnegare se stessi, vincere il proprio orgoglio, dimenticare i torti ricevuti e saper sorridere con amore a chi non gode delle vostre simpatie. Dare la pace non è un atto che si esprime soltanto esternamente, anche se l'esterno contribuisce a realizzarla. La pace viene dal di dentro, ed è come l'emanazione della bontà e della grazia. Così, arricchiti della mia pace, sarete in grado di essere quelle fontane zampillanti che beneficano la Chiesa e il mondo.